Stefano, Stefano mi conosci, quindi tu mi chiedi delle domande che sono molto giuste per chi sono. Sai bene che ho una grande difficoltà con internet, io ho capito forse da un anno come si accende un computer, quindi tutti questi social network, tutte queste cose che stanno nascendo anche sul sito, i blog e tutto, faccio fatica. Mi diverte, mi sembra un mondo incredibile, una fantascienza fantastica che io posso comunicare con tanta gente, scambiare idee. Mi sono ripromessa e ti ho promesso anche a te di provare ad essere una persona coi piedi per terra e di rispondere, di esserci. Io proverò a farlo, spero di riuscirci.